Ciao ragazzi e ciao ragazze bentornati nel mio canale stellina stars oggi giro un altro video e andrà penso stasera online ma sono domani metteria allora giro un video recensione due prodotti per il viso viso corpo più sponsorizzo i quattro canali ovviamente che l'hanno chiesto non faccio un unico video sponsor spero che guarderete il video tutto insomma non lo faccio durare tanto poi vabbè ringrazio i nuovi iscritti che sono sempre benvenuti scusate se si vede sono sempre benvenuti grazie e praticamente cosa dirvi partiamo allora prima degli sponsor volevo recensire scusate è bello della diretta due prodotti quindi vediamo ora allora il primo prodotto è un'acqua termale per le pelle sensibili contro il caldo lo potete usare anche dopo la doccia lo uso dalle lunedì alla domenica tutti i giorni jonza però è della natura siberica l'avevo preso 6,90 però da S lunghe supermercate S lunghe per mercato però il suo prezzo è 10 euro appunto 300 ml si presenta così è a spray è uno di thermal appunto senza profumo anche per le pelli più sensibili l'acqua termale è più di 1.850 vabbè è un'acqua termale ed è questa spero che si veda allora vediamo è un'acqua così si presenta a tubo si presenta così così ed è questa è un ottimo prodotto io appunto gli darei comunque gli darei comunque un cosa dite un un 9 glielo derai darei scusate è caldo e mi piace mi piace veramente molto quindi ve la straconsiglio ragazzi ve la straconsiglio mi avvicino poi vediamo gli altri scusate ma vediamo insomma gli altri vediamo insomma l'altro prodotto l'altro prodotto appunto un'idra vegetal a come a comucilare ma io lo uso ovviamente come come tonico allora con la tessera il vero scerva a 4 euro su prezzo 6 euro qualcosa mesi di pao 6 mesi e sono 200 ml rifresca la pelle è usato come tonico quindi lavate il viso ragazze mi riferisco a ragazze e dopo il tonico e dopo mettete la crema secondo me è un'ottima ottima z da 10 io lo uso sempre noterete che vi è arrivato fin poi ve lo recensi il detergente andrà nei prodotti finiti quindi andrà nei prodotti finiti e anche questo è un ottimo 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 prodotto 4 minuti se voi ragazzi avete provato sotto nei commenti fatemelo sapere vado con i video sponsor e ovviamente vado con il primo canale meta01 a 120 iscritti circa è un bel canale mi raccomando che iscrivetevi sotto sempre nell'info box vi lascio i riferimenti del canale il nome e lui fa GTA fa FIFA rainbow fa le live ogni tanto i video sono molto molto interessanti mi piacciono iscrivetevi che merita meta01 bravo like per te ciao quindi iscrivetevi meta01 poi andiamo a Killer Napoli Killer Napoli fa le live le fa ogni due giorni massimo lui fa anche lui porta rainbow porta il GTA molto belli se avete la PS4 ovviamente ragazzi non ve lo sto a dire io io purtroppo non ce l'ho la PS4 Killer Napoli anche lui le facevano arrivare a 150 iscritti o se gli ha già 190 iscritti Killer Napoli che lo seguo e quindi bravo super like per te top Killer Napoli poi andiamo al canale scusate il canale della mia amica Roxy Lady allora lei non porta proprio i gameplay lei porta Crash Royale sicuramente il Rayman molto bello i giochi dei Pokémon i Pokémon sono top lei ha 600 iscritti anche di più ha superato i 600 Road to 600 è arrivata grandissima super like per te amica e poi proprio porta i suoi doppiaggi se avete visto i dei vari video insomma se la conoscete non la conoscete iscrivete e ha fatto Antaro ha fatto Sailor Moon poi cos'è che ha fatto ha fatto il doppiaggio della frega di Alice molto bello e Nemo quindi ha fatto la piccola Dory molto bello ci mette passione nei suoi video quindi andatela a vedere se non siete iscritti iscrivetevi al suo canale super like per te Roxy amica ciao ciao e iscrivetevi anche al suo canale che porta bei video l'ultimo canale non per ultimo è Gaming Clash Italia 169 iscritti ora poi ovviamente aumenteranno fatelo arrivare a 200 iscritti e poi a 300 molto bravo un bel canale like per te anche lui fa un po' di tutto fa Rainbow soprattutto perché Rainbow Six Stage è top comunque bravo però arriverai fin qua a fine 5 minuti di video gaming e che vedrai il video comunque 169 iscritti è bravo super like anche per lui e ovviamente mi raccomando iscrivetevi top basta spero che insomma il video recensione di due prodotti più gli sponsor vi sia piaciuto veramente veramente vi sia piaciuto e spero insomma che vi ho sponsorizzato insomma che vi sia piaciuto il mio video se è così lasciatevi tanti like bei pollicini in su iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per non parte dei nuovi video attivate la campagna della destra condividete il video nei vostri social seguitemi su Instagram e Twitter sotto sempre i riferimenti ve li lascio sotto nei commentini fatemi sapere se volete essere hashtag se la sponsorizza perché non me ne avete chiesto l'hashtag 1 2 3 4 e ovviamente se avete provato ragazze per le ragazze questi prodotti e basta vi ringrazio ringrazio sto morendo vi ringrazio vi ringrazio veramente i nuovi nuovi iscritti perché veramente vi ringrazio che vi piace il mio canale i miei contenuti e i video che porto grazie 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 e basta ci vediamo al prossimo video vi mando tanti kiss tanti kiss per voi ciao presto ahhh